rispondi a questa domanda dove si trova quel bellissimo pacchetto con la lana cardata colorata che hai acquistato poco fa se hai risposto nell'armadio o in una scatola allora io ho il regalo che fa per te 31 feltro magie estive un percorso di 31 giorni dal primo al 31 agosto per 31 progetti creativi fatti tutti con la lana cardata grazie a tutti